27 febbraio 1958 I giornali erano usciti con un'edizione straordinaria e la gente faceva i cappannelli attorno alle edicole per commentare la notizia In via Osoppo un portavalori era stato svaliggiato Ma non era una rapina come tutte le altre, si trattava di una banda bellissima e perfettamente organizzata Alle 9 del mattino un furgone portavalori imboccava via Osoppo Con un banale incidente i rapinatori distoglievano l'attenzione della gente per poi piombare frontalmente sul furgone In pochi minuti nello sconcerto generale il furto era compiuto e aveva fruttato ben 70 milioni di cui 50 incontanti Dei rapinatori naturalmente nessuna traccia, se non quelle lasciate sui mezzi incidentati Ma come trovarli in una città che nel 1958 faceva quasi 2 milioni di abitanti? La ricerca appassionava la gente, mobilitava la polizia e naturalmente l'Interpol Alla scientifica a ritmo febrile si fotografavano e si analizzavano le impronte digitali Mentre gli agenti setacciavano la zona del giambellino al loro integgio E dentro questo cerchio, diceva il telegiornale dell'epoca, che hanno agito i banditi E forse in queste case hanno stabilito la loro base operativa Ma il 31 marzo del 1958 il cerchio si chiudeva e 5 dei rapinatori di Via Osoppo cadevano nelle mani della polizia Anche una parte della repurtiva veniva recuperata, 18 milioni Ma soprattutto veniva sconfitta quella che sembrava la rapina perfetta